Un commento su questo furto che c'è stato allo Stadio San Paolo, appena risistemato, un investimento anche proprio del Comune per l'Università, però sembra che i napoletani non... Non diciamo i napoletani, è qualcuno che ha fatto un reato, sono singole persone. Io mi auguro che si comprenda il lavoro straordinario che si sta facendo allo Stadio San Paolo, che si sta facendo grazie al fatto che Napoli per la sua potenza in questo momento da ogni punto di vista, in questo caso soprattutto sportiva, ospiterà l'Università. C'è uno sforzo enorme che si sta facendo. Lo Stadio già da quest'estate sarà completamente diverso, 55 mila seggiolini, bagni, no, quante volte abbiamo dovuto rispondere sull'indecenza dei bagni, gli spogliatori, l'impianto elettrico, la pista a tre, tanto altro ancora. È come quando tu ristrutturi una scuola, l'affidi alla comunità scolastica. Si ristruttura bene uno Stadio, lo si affida alla comunità di tifosi anche che vanno allo Stadio. Quindi io mi auguro che il delinquente o il criminale o il vandalo di turno venga isolato, altrimenti poi racconteremo un domani di episodi spiacevoli e tristi all'interno della nostra... E anche questa è una sfida, una sfida di maturità. Io lo dico sempre, si è tifosi non solo quando si esulta per la squadra, tifoso significa anche difendere la città e nella difesa della città c'è anche la difesa dello Stadio.